La settimana cinematografica al cinema Edoardo De Filippo in Via Taverne ad Agropoli ha in programma uno dei successi al botteghino degli ultimi tempi, 50 sfumature di grigio. La proiezione è prevista da giovedì 12 a domenica 15 marzo con spettacoli alle ore 19.15 e 21.30. Inoltre sabato 14 e domenica 15 alle ore 17 sarà proiettato il film di animazione Mune, Il Guardiano della Luna. Per il prossimo spettacolo teatrale la direzione informa che sono ancora disponibili i biglietti della commedia di Carlo Bucirosso, una famiglia quasi perfetta, in programma il 2 aprile. Il botteghino resta aperto ogni giorno dalle ore 11 alle 13.30 per il cinema.